Ciao a tutti, siamo a Corinto e abbiamo appena finito la nostra sessione di giochi con i bambini di questo campo, dei profughi. Veniamo ad Atene ogni settimana portando materiali e idee per costruire con i bimbi giochi il più possibile divertenti, così da poter vivere esperienze piacevoli. Ci veniamo ogni martedì con Anna e con Eco Mobile Library che porta qui una vera e propria libreria mobile che funziona proprio come una libreria per cui le persone vengono e prendono in prestito i libri e poi li riportano ed è una grandissima occasione per loro per coltivare la loro passione, la loro cultura e le loro passioni in un posto che di solito le nega. Quindi vi chiediamo un aiuto se volete aiutarci a portare avanti questa attività, vi mandiamo un grandissimo ringraziamento e a presto. Ciao! Bye bye!